Un altro colpo di mortaio sparato dalla Siria è esploso in territorio turco. È tornata a bersaglio del fuoco siriano la cittadina di Aciacale, dove in simili circostanze mercoledì scorso sono stati uccisi cinque civili. La risposta dell'artiglieria turca è stata immediata. Si tratta del quinto giorno consecutivo di botte e risposta armato al confine tra i due paesi. La tensione resta alta in questa zona, dove i ribelli hanno conquistato un nuovo avamposto. È l'edificio che vediamo nelle immagini, su cui sventola ora il drappo degli insorti, a un chilometro dalla frontiera, dall'altra parte il paesino turco di Güveci, già colpito dal fuoco siriano sabato. In questa zona di frontiera si sono intensificati gli scontri tra ribelli e truppe fedeli al regime. Secondo l'osservatorio siriano per i diritti sarebbero una quarantina i morti tra le file dell'esercito, nove tra i ribelli.